In più di un'occasione ai rivolti avevate manifestato dissenso nei confronti della politica perché non si era mossa in merito al Porto di Fugio. Finalmente la politica si muove, è una politica bipartisan, non c'è nessun colore e alla fine finalmente arriva questa firma che darà il là ai lavori al Porto di Fugio. Diciamo che il comitato del Porto di Gela è stata la spina dorsale della politica, ce li abbiamo proprio martellati, pressati e siamo arrivati a questo risultato anche grazie al comitato e anche grazie alla politica, siamo riusciti ad ottenere questo risultato. E da oggi a domani cosa accadrà al Porto di Fugio? Nella fattispecie da oggi a domani una volta messe queste firme dovranno arrivare fondi alla protezione civile che noi come comitato e come gruppo di lavoro ci attiveremo a capire e seguire l'iter in tutti i particolari e capire come va avanti. Quindi dovranno prima fase arrivare soldi materialmente alla protezione civile, dopodiché si farà la caratterizzazione delle sabbie. Ecco ma non era un paradosso a Scano Carpino vedere una città di mare Gela senza un Porto di Fugio fruibile? Purtroppo sì, la colpa è dalla politica perché giustamente non ha mai costruito per l'interesse della città visto le condizioni del Porto e quindi noi del comitato visto l'esigenza ci siamo attivati un anno e mezzo fa per portare avanti questa iniziativa. Ovviamente come ha detto il Presidente siamo stati la spina dorsale della politica ma questa spina aumenteranno fino a quando noi non vedremo i lavori eseguiti all'interno del Porto. Ieri avete consegnato sia al Presidente della Regione Crocetta che al Sindaco di Gela Messinese anche una targa ricordo perché era una data indelebile quella di ieri che dovrà essere ricordata. Certo, la targa ricordo di più l'abbiamo anche consegnata al Presidente Crocetta soprattutto per dirgli che Gela Angolaccede esiste, quindi lui è gelese e spero che ancora deve essere orgoglioso di essere sempre più gelese. Grazie